Nell'imbinato futuro ci saranno due passaggi per la tv digitale terrestre. Il primo, dal 21 dicembre 2022, saranno soppressi tutti i canali in SD. Praticamente, le trasmissioni continueranno con l'attuale standard DVB-T, ma sarà utilizzata la sola definizione HD. Se attualmente già ricevete i canali HD, per esempio Rayun HD e così via, non dovrete fare nulla. Saranno solo soppressi i cosiddetti canali identificati come provvisori. Il secondo passaggio invece sarà il vero e proprio switch off. Presumibilmente, dal 1 gennaio 2023, ci sarà la migrazione dallo standard DVB al nuovo standard DVB-T2. E se la vostra tv o decoder non è compatibile, non vedrete più nulla. Per verificare la compatibilità, potete provare a sintonizzare il canale 100 oppure il canale 200. E se ricevete il canale test HEVC-10, la vostra tv è compatibile. Al riguardo, vi rimando a vedere un altro mio video fatto in precedenza e pubblicato su questa piattaforma. Ma per quale motivo ci sarà questa migrazione? Attualmente coesistono due diversi standard, DVB-T e DVB-T2. Il DVB-T è una modalità di trasmissione che utilizza la modulazione OFDM e la compressione MPEG-2 per i canali televisivi in SD ed MPEG-4H264 per i canali in HD. Il DVB-T2 invece utilizza la più performante modulazione COD-FM e la compressione H265 HEVC-10, con maggiore definizione d'immagine, anche fino a 8K. Veloce parentesi, i programmi televisivi sono tra loro combinati in singoli gruppi, ciascuno definito multiplex, e diffuso in Italia in sola gamma UHF su frequenze comprese tra i canali da 21 a 49. Negli ultimi anni è stata, da un lato, abbandonata la gamma UHF per consentire la trasmissione della digital radio DAB e dall'altro, dal 30 giugno 2022, sono stati spenti i canali TV superiore alla frequenza UHF 49, corrispondenti alla Banta 700 MHz, affida dagli operatori di telefonia mobile per i servizi 5G. Inoltre, sono state localmente eseguite ulteriori restrizioni delle frequenze televisive utilizzabili, allo scopo di evitare sconfinamenti verso nazioni adiacenti, specie sull'Adriatico, per esempio verso la Slovenia, la Croazia, il Montenegro, la Badia e la Grecia, con pianificazione con quest'ultima combinata, per cui non sono utilizzate tutte le frequenze UHF. Tutto ciò ha comportato una notevole riduzione delle frequenze disponibili per la diffusione dei canali televisivi, e contemporaneamente c'è stato un progressivo miglioramento nell'erifizione dell'immagine, da SD ad HD a 4K. Questo è alla base del futuro passaggio dall'attuale Sada DVB-T al nuovo Sada DVB-T2, che è più performante in termini di definizione d'immagine, consentendo trasmissioni fino a 8K a maggiore larghezza ribanda, consente di poter inserire sul singolo multiplex un numero maggiore di programmi e servizi radioaggiuntivi ed infine presenta una qualità del segnale migliore.